Cioè ora gli abitanti di Moena mi stanno guardando? Ah, ciao abitanti di Moena, ragazzi di Moena, ragazze, amici, cittadini, coinquilini, abitanti locali e tutti coloro i quali vivono in codesta splendida città, sono Andrea Gresti e vi mando un saluto una cosa importante, divertitevi perché siete giovani e se non siete giovani divertitevi di più perché vi rimane meno tempo, quindi divertitevi, andate a giro, andate a ballare, ridete ma fatelo con intelligenza bevete sempre con la testa, dovete bere ma con intelligenza e se avete bevuto non fate le teste di alcol prima di tornare a casa o fate l'alcol test o date le chiavi a qualcuno che non ha bevuto cioè chi va avanti con l'acqua della cannella, si dice noi a Pistoia o a Firenze insomma divertitevi ma con intelligenza, ale!